Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sempre con me Lorenzo Mancucci Prima di iniziare il video vorrei sponsorizzare il canale di Filippo Ghizzani su Instagram Qui sotto verrà scritto ora Perfetto ragazzi, andate a seguirlo su Instagram e poi potete trovare anche a fare il nuovo chat con questo canale Perfetto, iniziamo col video Grazie a tutti 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 Grazie a tutti